pronto pronto su vip o su vip o e sogno sarà il sito marchese mi sente aspettasse meno sono lo zio orazio con la digna marchese mi sente adesso sono lo zio orazio con la digna marchese ce lo dico subito io ho ricevuto una chiamata lei cercava un uomo città ora io signor regata nel centro e lei non è la barriera santa teresa di riva danni messinesi ho capito e lei cercavano ora io voglio dire lei è un numero un negozio vado parlando già non altro siccome mi miso come il numero per fare scherzo a chi sciamone miso il numero come si è in sezione gay è un oggetto famoso che i due i due no ma infatti non è che mi stai pegando con lei io volevo sapere lei è un altro auto numero perché a chi ci scipa adesso come come mascoline in baghe che incontri ma era una cosa di omosessuale io sogno a fare tutti però parlando con lei ancora ancora no ma io ci stai dicendo poi ne becchiamo un caffè non è chiesto problema io ci stai dicendo una altra cosa io ho tutto il rispetto il rispetto tutto omosessuale chino cavolite ma ancora io mi sento un cavaggio risultato cioè voglio dire mi sono sentito offeso nella mia verità che ancora io che tiro fiumino la coppola calvo che dire io sono un caldano da casa molto aspettoso se ma lei cerca un compagno diciamo perché poi ci hanno un argomento che se stiamo in buono capito questo io non ho capito ma lei però no ma io.. no ma io no allora signora so bello io non è che ho io credo che voglio dire ma non lo mettiamo in dubbio ci stai dicendo che ne prendiamo un caffè macchiato non è chiesto io non l'ho con lei io l'ho con un numero perché ci scippa la testa e gli attacchiamo la fornita no ma io ma io ci stai no ma allora non lei non mi sta capendo io con lei non ho niente lei aveva tutti i diritti che vuole io ho i sette figli parlando con lei e ci posso vedere i reparti no ma io no ma lei allora non stiamo babbiando io non l'ho con lei io voglio capire lei è un altro luogo poi ci scippa la testa che è uno che è Puppeteto si chiama famoso ci scippa la testa si si no ma e mi fa sti scherzo a mia a mia che io ho i sette figli ancora sono un cavallo da sotto faranno con rispetto pronto mi senti pronto pronto oh e allora lei ci posso trovare un consiglio lei se la cercare in realtà un caruso un caruso ci rogno un consiglio come se fosse mio figlio se cercasse nella realtà la gente perché lo computer ci sono tante teste di minchia che rompono i coglioni si si ho capito ho capito ho capito avanti si 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 ma lei che aveva un negozio mi pare io che fa lei che fa che ci cerco io a qualcuno con la famiglia 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 ah ho capito ho capito vabbè abbiamo un'attività di famiglia un'attività con i negozi con i negozi ma lei allora mentre la sua mai allora ma lei che vince magari materazze cucine a me a me mi serviva un canotto voi una vita canotte o canotto picchino a mare a praia no 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 che mezzo che c'era ma va bene signor mancosaccio come si chiama come la posso chiamare so bello signor ah subito subito io sa benedica mi raccomando avanti arrivederla arrivederla un signor aiuto un signor aiuto arrivederci arrivederci a Grazie.